ciao ragazzi benvenuti nella nostra versione dei let's play ribattezzata gameplay today per richiamare il nostro logo god of war oggi vi mostro venti minuti che ho giocato in prima persona alcuni passaggi li avete già visti nella video recensione altri sono inediti sempre pochi spoiler ma qualcuno ci sarà soprattutto vi faccio vedere l'interfaccia le opzioni parte nel mondo della mappa del mondo di gioco e qualche caratteristica in più niente di trascendentale però a differenza del passato dove sono stato completamente spoiler free e avete apprezzato questa cosa oggi invece un pochino in più vi dico senza nomi o momenti topiche tranquilli allora kratos su figlio atreus vedete che può saltare in groppa per dare una mano al protagonista principale si muove in autonomia e la sua evoluzione è costante nel corso dell'avventura voi potete premere il tasto quadrato per permettergli di scagliare delle frecce però queste cose qui che state vedendo adesso invece le fa in automatico e vi permette quindi poi di inanellare combo la protagonista principale lascia il leviatano che si espande nel corso del tempo grazie ad alcune abilità poi con l1 c'è lo scudo che permette invece di deflettere gli attacchi avversari e quindi stordirli e poter attaccare ci sono tutta una serie di combinazioni e quello che vi ho detto anche nella video recensione è questo senso di progressione costante di scoperta e di esplorazione che c'è all'interno del gioco questo questo rapporto padre figlio questi momenti alternati in termini di ritmo queste traversate vedete adesso loro hanno aiutato uno spirito e c'è la chiacchierata mentre c'è questa traversata in canoa molto bella è fatta fighissima e proprio da anche al punto di vista della fisica di come kratos affonda la pala c'è tanta cura anche per cose secondarie doppiaggio in italiano con la possibilità di selezionare anche quello inglese e i sottotitoli in italiano e poi ci sono anche contenuti extra come questi squarci che si trovano in giro per il per la mappa che vi danno oggetti extra che sono collezionabili e nei quali prima di ottenere l'oggetto bisogna spesso e volentieri combattere contro nemici questi sono di livello estremamente superiore a quello mio di kratos vedete infatti sono viola pochi colpi e c'è l'uccisione del protagonista principale sono facoltativi ci sono quattro livelli di difficoltà tre sono intercambiabili i primi tre il quarto invece è unico quello più difficile e poi ci sono dialoghi anche simpatici vedete grazie al cazzo ha detto in questo momento che sarebbe uno dei nani che sono i fabbri del gioco che fanno spesso e volentieri battute sono caricaturali e servono per migliorare l'equipaggiamento di kratos che c'è la spalliera la parte centrale e altro e poi il leviatano e alcune caratteristiche il pomo quindi all'interno dello stesso leviatano tanti puzzle fisici più o meno semplici più o meno ingegnosi questo è piuttosto appunto semplice però vedete c'è una cassa allora quindi bisogna un po andare a vedere l'ambientazione andare un po a guardarsi attorno vi consiglio sempre di guardare in alto in basso perché ci possono essere delle casse ci possono essere dei punti da colpire per ottenere oggetti aggiuntivi e puzzle fisici più o meno ingegnosi ecco in questo caso vedete c'è questa sala questa stanza bisogna utilizzare questa cosa bloccare con l'ascia perché l'ascia leviatano ha la possibilità di bloccare di frizzare in inglese quindi di immobilizzare col ghiaccio alcuni passaggi poi l'ho ripresa quindi torno indietro faccio riscendere gli spuntoni e ho la meglio dei nemici e poi tanti combattimenti ecco il ritmo ha alti e bassi anzi non tanto alti e bassi nel senso che ha momenti molto concitati e momenti più rilassati di esplorazione di chiacchiere e poi chiaramente nemici questi non morti tutti provenienti dalla mitologia norrena quindi il cambio completo è una meditazione anche se poi kratos è lui in termini di carattere in termini anche estetici è semplicemente invecchiato ma sempre cattivissimo sempre fortissimo più nemici che attaccano in contemporanea è possibile nelle opzioni disattivare l'interfaccia sia il loro livello proprio di potenza sia la barra di energia sia le caratteristiche di kratos e anche quando si viene attaccati lateralmente indietro ci sono atreus e altri che vi dicono magari se vi stanno per attaccare indietro proprio all'ultimo secondo quindi dovete essere super reattivi e però poi è tutto disattivabile anche la bussola vedete c'è una bussola in alto tipica degli action lpg io l'ho disattivata perché non mi interessa è piuttosto semplice girare e capire dove andare e anche il bello dell'esplorazione magari fare attività secondare senza focalizzarsi soltanto sulla missione principale ci sono anche missioni secondarie chiamate favori sempre ben sceneggiati sempre interessanti e poi tutta una serie di combo si usa il leviatano con si mira con l2 vedete e poi con r2 si fa il lancio a doppia mano con r1 il lancio più veloce a una mano chiaramente facendo meno male si può attaccare a mani nude e quindi utilizzare tutta una serie di combinazioni vedete questo qua non sono impazzito bensì ho cominciato a fare tutte cavolate per farvi vedere che ci sono tante abilità in relazione ad esempio a r1 e poi l1 scusate l1 e poi r1 e r2 sono l'attacco runico leggero attacco runico pesante attacco in corsa e l'attacco runico leggero e quello pesante possono essere cambiati nelle opzioni quindi ce ne sono almeno una decina per una decina nell'altro dovete scegliere in base ai nemici o in base al vostro stile di gioco cosa fare con la pressione del tasto quadrato anche Atreus ha delle mosse aggiuntive poi ci sono delle frecce in basso a destra in questo caso sono frecce che vanno sempre a immobilizzare col ghiaccio nemici ma ce ne sono anche stordenti e altre e queste frecce non soltanto hanno attacchi differenti per nemici differenti ma permettono anche di sbloccare punti dell'ambientazione magari ci sono dei passaggi interrotti da rune esplosive quindi bisogna avere delle frecce in grado di scatenare questa esplosione oppure ci sono dei ponti che si attivano soltanto con l'attacco di ghiaccio quindi in realtà c'è tantissima varietà e tanti mid boss come il mangia anime intermedi che bisogna appunto sconfiggere in questo caso colpendo il suo cuore ottenendo una sorta di frammento esplosivo che gli permette poi a Kratos di attaccarlo immobilizzarlo e adoperarsi nella classica sequenza spettacolare con R3 e quindi colpirlo fino a un certo punto ci sono tanti mid boss in questo video di gameplay non vi faccio vedere i boss vedete non ci sono proprio super spoiler tanti mid boss simpatici, coinvolgenti da affrontare ma standard ecco un po' come i mid boss degli altri capitoli poi soprattutto il primo boss e l'ultimo e forse anche un intermedio sono estremamente spettacolari, scienziati alla grande, coinvolgenti, eccitanti e poi tanti di quei mid boss come vi ho mostrato il mangia anime interessanti ma chiaramente lontani anni luce dalla beltà incredibile, fantastica di God of War 3 e questo è stato anche l'unico difetto che non mi ha fatto difetto poi diciamo l'unico elemento qualitativo inferiore rispetto agli altri God of War che non mi ha fatto scegliere per dare 10 al titolo mi ho dato 97, quindi non 100 anzi 97 perché è un titolo maturo, moderno, pieno di cose da fare con tante cose secondarie, missioni, c'è l'end game quindi non c'è il new game plus ma quando si finisce la storia principale è possibile compiere tutta una serie di attività fantastiche e riprendere anche magari missioni secondarie che vi siete lasciati dietro si aprono pezzettini di ambientazione, c'è tanto da fare, tanto da esplorare e poi ci sono questi boss che potete combattere insieme alla Treus chiedendogli di darvi una mano in questo caso è una strega che ha magie velenose che è in grado di abbassare la vostra resistenza e anche la vostra barra di vita in basso vedete con L3 più R3 si attiva la furia di Sparta e poi quegli altri tre elementi a sinistra si attivano con lo scudo L1 quindi L1, poi si può premere R1, R2 o il cerchio Kratos non sa quasi nulla della mitologia norrena Atreus è nato qui e quindi è in grado di leggere le rune le rune quindi potenziare il proprio taccuino ma dare anche dei suggerimenti utili contro i nemici e anche magari sbloccare dei passaggi addirittura dei mondi grazie al fatto che acquisisce la conoscenza di alcuni linguaggi si sbloccano un paio di mondi che permettono di fare le classiche sfide di livello crescente io quello che vi suggerisco è se siete degli amanti degli action di giocare il terzo livello di difficoltà e nel caso comunque potete scendere al secondo o al primo se selezionate come vi dicevo prima il quarto, quello più difficile dopo non potete tornare indietro, c'è un salvataggio apposito quindi non vi preoccupate che il livello di sfida c'è soprattutto nelle fasi avanzate e poi soprattutto se vi mettete a esplorare l'avevo fatto vedere prima ci sono quei livelli di livello 7 quando Kratos in quel momento era di livello 3 sono molto ostici, hanno dei pattern d'attacco più complicati, più complessi e poi più che altro bastano uno o due colpi per mandarvi al tappeto chiaro è che bisogna acquisire padronanza sicuramente i nemici più complessi hanno delle dinamiche quasi dai souls like cioè bisogna evitare gli attacchi avversari alcuni nemici non sono vulnerabili all'ascia quindi bisogna utilizzare le mani nude o altri sono più vulnerabili al fuoco rispetto al ghiaccio e viceversa quindi c'è tanta varietà e c'è soprattutto un sistema di combattimento che evolve nel corso del tempo non è mai banale, all'inizio sembra statico poi diviene sempre più dinamico, più fluido anzi già il primo boss dopo 50 minuti di gioco vi fa capire che assolutamente il gioco è molto meno statico di quanto sembri poi, chiaro, la visuale è più ravvicinata c'è meno battle meshing rispetto agli altri God of War e quindi anche meno fluidità però c'è tanto da fare vedete ad esempio premo adesso R2 lascio premuto e quindi faccio questa sorta di finisher e come vi dicevo prima ci sono attacchi runici attacchi leggeri, pesanti che si vanno a comporre abilità che si sbloccano lo stesso lancio dell'ascia può essere triplo e quindi ci sono tante cose da fare questa è parte della mappa di gioco Midgard con l'hub centrale del lago con tante attività secondarie ai lati io vi consiglio di girare con la canoa ed esplorare le spiagge vedete, pasto fluviale si parte da un punto, si va all'altro tante cose da fare completamente al 32% qui ero a più di 15 ore di gioco poi ci sono altri mondi altri mondi principali e altri mondi secondari che offrono sfide vedete, al fame questo fa parte della storia principale è un altro mondo e questa è la barra delle abilità legate agli attacchi a distanza allo scontro avvicinato del Leviatano e quindi vedete si ottengono nuove caratteristiche anche del lancio che colpisce tre nemici oppure il fatto che se premete il triangolo al momento giusto è possibile fare un secondo attacco c'è la finisher e c'è grande tempismo questo sistema di combattimento necessita grande tempismo per avere la meglio e per divertirsi chiaramente sfruttando soprattutto i livelli di difficoltà più alti se lo giocate a semplice potete evitare tutte queste cose qui ci sono una serie di attacchi con gli scudi potenziati anche in corsa anche dopo aver parato si può contrattaccare c'è il combattimento furioso quindi tutte le abilità legate alla furia di sparta e si ottengono spendendo bonus e punti esperienza quindi i punti esperienza non servono per salire di livello ma per le abilità poi abbiamo l'armatura a braccia armatura a busto armatura a fianchi ognuno ha caratteristiche anche aggiuntive che si ottengono se avete vitalità difesa fortuna o ricarica superiori ci sono i castoni quindi è possibile aumentare la forza la difesa e delle caratteristiche aggiuntive ci sono anche per rarità quindi gli epici i leggendari i leggendari appunto quindi vedete c'è tanta complessità e il livello di kratos è un insieme di tutte queste cose quindi non è che c'è si spendono punti esperienza e si sale di livello bensì grazie all'armatura grazie ai castoni all'eviatano e al tutto il livello di kratos sale però alla fine si finisce al livello 8 al livello 9 e quindi è più una roba sempre legata alla progressione vedete attacco runico leggero ci sono tanti da mettere legati in questo caso a r1 e attacco runico pesante ci sono attacchi ravvicinati attacchi in salto e qui erano dopo sempre 15 ore di gioco in realtà andando avanti verso 20 25 se ne sbloccano tanto si ottengono tanti oggetti tanti attacchi runici anche dai nani poi abbiamo gli obiettivi vedete quelli principali che danno ricompense anche come talismani altra cosa che si aggiunge i favori che sono le missioni secondarie gli appunti di Atreus le prove ammazza a tot nemici in questa maniera quindi in realtà come vedete mi sto mostrando che c'è tanta profondità non ai livelli dei JRPG o di Skyrim ma nemmeno ai livelli di Action RPG molto basici le risorse che vi fanno ottenere dei favori oppure potenziamenti anche estetici delle mani e poi le impostazioni classiche quelle di gioco un'esperienza equilibrata la visuale alla pressione dei tasti quindi c'è tanta personalizzazione in arrivo anche la modalità fotografica l'interfaccia che si può disattivare come vi dicevo prima in toto o meno togliete la bussola che è inutile la visuale chiaramente l'audio i sottotitoli la calibrazione dello schermo il supporto HDR il supporto PlayStation 4 Pro modalità risoluzione modalità frame rate frame rate 1080p sbloccato e mentre modalità risoluzione 4K 2.160p checkerboard a 30 frame al secondo quasi sempre consistenti io ho scelto come vi ho detto anche nella videorecensione la modalità risoluzione c'è anche il super sampling se avete un 1080p uno di 1080p questo è al fame un altro mondo che fa parte della storia principale e vedete l'ascia serve anche per fare puzzle fisici anche creativi vi dico sempre di guardarvi attorno per trovare oggetti nascosti oppure come risolvere alcuni puzzle fisici vedete questo è un mondo dove bisogna raggiungere la luce e ottenere il potere della luce ci sono gli alfi scuri gli alfi chiari queste rune a tradurre che vi permettono di medesimarvi ancora ulteriormente all'interno del gioco e quindi c'è estrema varietà per un gioco molto più longevo rispetto agli altri capitoli si finisce almeno in 20-25 ore ragazzi ma se vi impegnate un minimo andare a fare già le missioni secondarie diventano 30 35 c'è chi l'ha giocato 50-55 ore perché c'è l'endgame il postgame ci sono proprio delle sfide da affrontare e anche piccoli pezzi di storia che se ultimati se le sfide vengono ultimate non vi danno soltanto oggetti ma vi danno anche proprio dei riconoscimenti in termini di narrazione vedete questi sono gli alfi oscuri potete bloccarli grazie all'ash attaccarli a mani nude utilizzare atreus utilizzare anche vedete lo scudo cioè c'è tanto da fare poi chiaro per sfruttare al massimo e per divertirvi al massimo dovete alzare il livello di difficoltà perché altrimenti poi basta ottenere diciamo e utilizzare le mosse base per vincere per ottenere successo nel gioco però aumentando la difficoltà facendo le missioni secondarie facendo anche le sfide perché io vi invito poi a fare tutte le classiche sfide presenti anche negli altri God of War dovete assolutamente sfruttare al massimo il sistema di controllo il sistema di combattimento per divertirvi col gioco per avere la meglio anche perché non tutti i nemici vengono affrontati alla stessa maniera ecco vedete qui abbiamo ancora un'altra 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 parte la parte finale che vi faccio vedere all'interno di questa di questo gameplay today anche ditemi se vi piace il nome abbiamo scelto questo anche per richiamare assolutamente il nostro logo e vedete questo in questo caso premuto R2 poi ci sono ad esempio queste piccole anfor esplosive che permettono di rivelare il passaggio e andare magari a beccare vedete in fondo la cassia adesso ho saltato ci sono molto meno sequenze quick time sono più spettacolari e anche automatizzate ci sono vedete queste sequenze in intermezzo molto fighe dove si avvicina la telecamera questo è un troll e semplicemente un mid boss non è assolutamente fa parte dei boss principali e il bello è anche di Kratos che non riesce a capire nulla mentre Atreus ne capisce di più vedete non ci sono più queste sequenze quick time dove bisogna premere per migliorare tranne in pochissimi casi perché tanto alla fine di Santa Monica e Corri Barlog si sono resi conto che forse era un po' inutile è meglio lasciare il fluire dell'azione e poi passare in maniera indisturbata tra il gameplay e il gioco non interattivo ecco vedete adesso si passa senza soluzione di continuità alle mazzate al gioco e tranne quest'ultima sequenza qui e quindi poi si passa a giocare una scelta che trovo molto molto interessante chiaro è ragazzi che se volete un giudizio più uniforme più fluido guardatevi la mia video recensione o leggete la recensione su gameplay qui era un po' per farvi vedere alcune caratteristiche del gioco quello che può fare Kratos e tenete conto ribadisco di nuovo che qui siamo tutte sequenze che ho fatto per la video recensione quindi a 15 tra le 5 e le 15 ore d'avventura poi ci sono si aggiungono tantissime altre cose questa è la furia di sparta si aggiungono tantissime altre cose in termini di abilità e quindi ci sono ancora più cose con cui giocare e poi la cosa importante è che questi attacchi ironici leggeri e pesanti soprattutto queste abilità devono essere scelte e quindi si può cambiare il proprio stile di gioco a seconda di quello che succede ecco vedete anche in questo caso questa sequenza si è vista tanta anche negli altri God of War dove si prende il controllo del troll ed è possibile attaccare velocemente e ci sono anche troll nascosti che vanno scovati quindi è molto molto importante questo è quanto ragazzi gameplay today fatemi sapere cosa ne pensate al prossimo video iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale